Quali sono i 21 attrezzi fondamentali per camperizzare un van fai da te? Per chi non ci conosce io sono Danilo, io sono Sara e abbiamo comprato questo Volkswagen Crafter esattamente un anno fa avevamo un minivan che abbiamo camperizzato, lo abbiamo venduto e abbiamo camperizzato questo furgone dal 2 gennaio 2023 Buon anno! Per 10 mesi intensi ci siamo dedicati alla realizzazione della nostra casa su ruote Invece per chi ci conosce questo è un video diverso dal solito ovviamente non siamo più nel capannone, il nostro periodo lì fortunatamente è terminato, era ora e in questo momento ci stiamo preparando per il nostro futuro viaggio però non vi preoccupate perché vi dobbiamo ancora mostrare tantissime cose della camperizzazione per realizzare una camperizzazione nel migliore dei modi serve sia un posto giusto possibilmente al chiuso ma anche della buona attrezzatura all'inizio siamo partiti molto da inesperti, non sapevamo esattamente cosa ci potesse servire questi 10 mesi in cui ci siamo messi nei panni di meccanici, elettricisti, idraulici, falegnami architetti di interni, gestione marketing, anche quello è importante abbiamo capito qual è realmente l'attrezzatura che serve per effettuare una camperizzazione fai da te e per questo motivo facciamo questo video per dirvi sinceramente quello di cui avete bisogno se volete intraprendere questo percorso abbiamo fatto questo video proprio nella settimana del back friday selezionando accuratamente i prodotti con grande qualità ma anche in sconto abbiamo selezionato 21 articoli per un totale di 1074 euro che è una bella cifra ma dovete considerare che questi utensili li potrete riutilizzare nel tempo che si può addirittura vendere partiamo dalla categoria attrezzi generici che non dovrebbero mancare neanche in una casa al primo posto mettiamo questo cacciavite multifunzione a cricchetto della Uera sentite che è tutto sporco perché è stato super utilizzato durante tutta la camperizzazione questo è in sconto a 106 euro però ragazzi li vale tutti perché è indistruttibile davvero veramente indistruttibile possiede chiavi esagonali, chiavi torx, chiavi a stella con vari snodi di dotazione è possibile arrivare nei punti più impensabili in maniera semplice circa perché delle volte comunque è difficile lo stesso eh sì però ci si riesce al secondo posto mettiamo un trapano avvitatore a batteria della Enel marchio che abbiamo utilizzato quasi sempre questo è l'avvitatore che abbiamo utilizzato durante tutta la camperizzazione dell'ICICA ci siamo trovati bene però è molto grosso questo trapano che abbiamo selezionato l'abbiamo visto dal nostro meccanico ed è molto più piccolo, molto funzionale e nella confezione è presente un mandrino ad angolo retto cosa molto molto comoda quando dovete avvitare o forare addirittura in dei punti stretti soprattutto sotto la lamiera è utilissimo ci sono anche gli snodi flessibili ma con quelli non potete fare una forza eccessiva ci storciano tutti, fanno un casino già che ci siete con l'avvitatore conviene prendere il set di 33 punte a soli 14,89 euro quindi una volta prese state a posto vi assicuro che quando vi serve una punta particolare e non l'avete vi tira il un sacco di tempo perso per prendere, andare a prenderla e tornare abbiamo scelto la Enel come avvitatore a batteria perché ora vedrete anche gli altri prodotti sempre della Enel così potete utilizzare la batteria per tutti gli altri prodotti quindi avere un ecosistema ah sì Enel in quarta posizione vi consigliamo un set di chiavi a tubo con inserti in dotazione avete anche le chiavi ad anello che quelle possono sempre servire sia per un lavoro di idraulica che di meccanica il chiave a cricchetto è sempre molto utile per esempio se dovete avvitare o svitare i sedili inoltre fa sempre comodo avere più chiavi anche delle stesse misure per controavvitare e avvitare dei bulloni eccetera fondamentali sono gli occhiali protettivi anti a panno noi li abbiamo utilizzati tantissimo soprattutto nel tagliare l'alluminestruso perché quando volavano i pezzetti è un attimo che ti arriva l'occhio i ciechi oltre che essere senza un dito è ovviamente anche un bel set di squadre combinate dotate di calibro che per 33 euro potevamo comprare invece noi non li abbiamo utilizzati abbiamo utilizzato i righelli di scuola che comunque delle volte non erano così precisi perché i righelli erano tutti indentati però ce l'abbiamo fatta tornando indietro sì per la prossima volta magari cioè per 33 euro secondo me è da avere esatto e ovviamente l'oggetto che ci ha aiutato sempre è stata come si chiama questo? la pistola per le cartucce del silicone questa ha una grandissima storia e continua ad aiutarci tutt'ora sempre con legno Max si può notare il grado di usura di questo oggetto e l'incrostatura e per ultimo della categoria generica abbiamo utensile multifunzionale rotativo anche detta mini fresatrice ci ha aiutato molto nel taglio delle perlini in pvc in generale per qualsiasi taglio di materiale plasticoso anche per il pavimento se si utilizza del laminato noi abbiamo utilizzato quello tagliabile con le forbici però potrebbe essere un altro utilizzo mi ero sbagliato l'ultimo posto in realtà è questo perché questo è confondibile anche con l'idraulica però nella categoria generica abbiamo messo anche le cose un po' da idraulica che fondamentalmente è solo questa un set di quattro pinze regolabili universali siamo pronti a passare alla categoria falegnameria qui non diamo categorie sono tutti molto importanti tutti utili per ogni occasione differente quindi direi di metterli tutti nello stesso piano seghetto alternativo a batteria noi avevamo quello col filo ma questo ha la batteria della Enel e quindi se prendete anche l'avvitatore a batteria della Enel potete scambiarvi le batterie e questa è una cosa molto utile inoltre in questa versione sono già presenti le lame da metallo e da legno quindi molto comodo il seghetto alternativo è fondamentale quando si devono fare dei tagli ricurvi per esempio le pareti del bagno l'abbiamo utilizzato tantissimo abbiamo utilizzato quello oppure in generale quando dovete fare dei tagli di prova dovete tagliare delle sagome in generale il seghetto alternativo può sostituire la troncatrice la sega circolare anche la sega da banco però il taglio non verrà mai preciso noi abbiamo utilizzato solo il seghetto alternativo per la camperizzazione del nostro primo minivan Camillo e di fatto le sbrodolature e le imprecisioni si notavano molto soprattutto se il legno non viene rivestito come abbiamo fatto noi con le pellicole ma rimane impregnato o colorato il secondo attrezzo molto utile è la famosa troncatrice noi abbiamo utilizzato proprio questa che vi abbiamo indicato è di ottima qualità abbiamo fatto di tutto e di più abbiamo troncato listelli di legno profili di alluminio estruso cambiando ovviamente la lama di taglio e in generale non ci ha mai deluso non è una troncatrice professionale noi l'abbiamo pagata molto di più al tempo e per 78 euro praticamente è da avere perché ti semplifica la vita e fa dei tagli netti precisi sono quelli li abbiamo utilizzato anche per tutte le cornice che abbiamo fatto delle varie nicchie perché appunto ha anche il taglio a 45 gradi sempre della Enel non siamo sponsorizzati ma ci siamo trovati bene con questi prodotti abbiamo utilizzato la stessa sega circolare da banco è uno strumento molto utile quando dovete tagliare grossi pannelli e quindi utilizzare un seghetto alternativo o una sega circolare movibile diventa un po' più complesso perché sulle ampie lunghezze si può far fatica a essere precisi è uno strumento altrettanto pericoloso quindi state attenti utilizzatela sempre in due mi raccomando uno davanti e uno dietro che prende il pezzetto non fate i forti perché alla fine finite come me io non mi sono fatto male con la sega e anche questa l'abbiamo utilizzata per fare il taglio a 45 gradi delle pareti del bagno abbiamo fatto due tagli a 45 gradi in maniera tale che le pareti si unissero perfettamente e abbiamo impostato la lama della sega per tagliare in quel verso questo tipo di taglio si può fare solo con la sega da banco o vi semplificate la vita facendo le pareti per vendicolare oppure come noi serviva per forza altro d'ultimo attrezzo è la sega circolare vi abbiamo selezionato quella che abbiamo sempre utilizzato ovvero dell'ICC noi abbiamo utilizzato la versione col cavo in descrizione trovate la versione a batteria ma a voi la scelta quale rendere noi ci siamo trovati benissimo con il cavo alla fine è anche abbastanza lungo ti muovi bene devi considerare che se prendi tutto è a batteria poi nel tempo è scomodo si le devi caricare le batterie è capito invece il cavo in questo caso è covo l'avvitatore no serve l'avvitatore è fondamentale a batteria questi altri utensili potete sceglierli col cavo o meno ma dipende sempre da dove lavorate se lavorate in un posto dove non avete una presa raggiungibile facilmente allora vi conviene fare tutta batteria così a fine giornata ricaricate tutto e riniziate in loop o con una power station o con una power station non abbiamo scelto la Enel perché in questo caso l'ICC ha fatto il suo lavoro ci troviamo bene costa meno e quindi ci sentiamo di consigliare quello Sara ha parlato dell'ultimo attrezzo per la falegna meri ma in realtà abbiamo altri due utensili ovvero i famosi morsetti in descrizione vi abbiamo messo due tipologie differenti quello come questo che si è storto nel tempo perché l'abbiamo veramente martoriato e i morsetti a molla che abbiamo utilizzato anche questi nella nostra camperizzazione ma li abbiamo spaccati tutti e quattro ce n'è rimasto uno questi li abbiamo utilizzati moltissimo per fissare i nostri pannelli sulla struttura dell'alluminio estruso con la colla però li abbiamo utilizzati anche moltissimo per fissare i pannelli al tavolo e poi tagliare con la sega circolare o con il seghetto alternativo in modo che l'altro può fare altre cose mentre uno si dedica al taglio altrimenti quando uno taglia l'altro deve mantenere invece morsettate state tranquilli esatto per una camperizzazione vi consigliamo di averne una decina magari 4 o 5 della versione a molletta che sono molto rapidi quindi se avete la colla in mano e siete come Sara che si fa prendere sempre dal lancio quindi prendi la morsetta attacca attacca sono comodi invece quelli avvitabili sono molto più potenti infatti qui dalla descrizione addirittura dice che forza massima di sterraggio 272 kg ultima categoria elettricità questa ragazzi è la categoria mia il mio amore per la corrente al primo posto una crimpatrice in questo set sono già presenti i terminali l'abbiamo utilizzata moltissimo per preparare i cavi crimpando i terminali finali con questa crimpatrice potete crimpare i cavi da 0,5 a 2 o 4 mm quadri per cavi con una sezione maggiore serve la crimpatrice grossa l'avrete vista nei nostri video quella pneumatica molto grossa costa molto ve la mettiamo in descrizione lo stesso ma non vi consigliamo l'acquisto perché non tutti di voi effettueranno manualmente il proprio impianto elettrico questa secondo noi è una cosa da avere in generale in un camper perché può succedere anche mentre siete in viaggio che vi si sfila un terminale e se non lo crimpate vi attaccate al caco la volgarità un po' gli piace a loro questa è in volgarità indiretta perché io non sono volgare la parolaccia viene tagliata siete voi che pensate che io dica la parolaccia dopo caco che dici caco il caco altro attrezzo le forbici professionali per elettricisti questo è l'unico prodotto che non è in offerta ma vi consigliamo queste perché sono indistruttibili ci abbiamo tagliato di tutto non solo cavi altro attrezzo una pinza spelafili da utilizzare prima di fare la crimpatura prendete la parte finale del cavo spellate un pochettino in maniera tale che si veda il rame mettete il terminale crimpate potreste utilizzare le forbici cercando di non tagliare il rame però ecco è una procedura molto più lenta e devi fare molta più attenzione quindi vi consigliamo questo così fate subito gli elettricisti che hanno praticità fanno con le forbici perché loro sanno quanto devono affondare e quanta forza devi fare affinché venga solo via la guaina di plastica e non parte del rame per 10 euro esatto se state facendo una camperizzazione ragazzi non vi ha faccato 10 euro l'idea è spendo 10 euro ma guadagno 30 secondi in più per ogni cavo che devo fare ma anche di più di 30 a girare e togliere dipende quanti grandi cavo guadagno un minuto in più per ogni cavo che devo fare considerate che in una camperizzazione avremo fatto almeno due o trecento crimpature sono due o trecento minuti e sono quasi quattro o cinque ore per 10 euro uno si ragiona così io ho letto che una donna in media in tutta la vita spende un anno intero a scegliere cosa mettersi pensa che è una cosa assurda quindi l'uomo spende un anno intero a sopportare la donna ultimo ultimo c'è scritto anche il più venduto da amazon è in offerta il multimetro se dovete fare un impianto elettrico dovete sapere quale tensione sta nelle due polarità quanta corrente passa quindi il multimetro è da avere sempre ah dimenticavamo altri tre oggetti fondamentali sono il set di spatole che l'abbiamo utilizzati tantissimo per togliere la colla in eccesso pulire il pianale dai rimasugli del pavimento pulire il piatto doccia dai rimasugli della vernice e per pulire nelle cavità più profonde il taglierino stra utilizzato per tagliare i pannelli di xps dell'isolamento è comunque sempre utile ed ultimo ma anche molto importante un metro Sara sei soddisfatta di questo video acquisti il primo video acquisti dopo tanto tempo li abbiamo selezionati davvero accuratamente soprattutto sperando di esservi utili per una vostra eventuale campelizzazione o anche semplicemente per modificare una piccola cosa all'interno del van fateci sapere nei commenti qui sotto se avete altri attrezzi da consigliare e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao